Inaugurata la nuova sala di tiro con l'arco che sede al campo di tiro in via Lago di Garda. Con la nuova sala, la compagnia Arcieri Bizantini porta a compimento l'allestimento del campo nel quartiere San Giuseppe. Un lavoro decennale, affermano gli Arcieri Bizantini, merito dell'impegno finanziario della compagnia, del lavoro volontario dei suoi soci, dei contributi del comune proprietario dell'area e dell'aiuto della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna. Allora, questa qui per gli Arcieri Bizantini è sicuramente una grandissima opportunità perché darà la possibilità agli Arcieri di sviluppare il settore dell'istruzione indirizzandoli in modo particolare ai ragazzi. Quindi tutta quella che è la parte di istruzione ai ragazzi che purtroppo fino a ora non avendo un'istruzione di questo tipo non siamo riusciti a sviluppare come avremmo voluto. Su questa sala va dato un ringraziamento enorme agli Arcieri Bizantini che hanno voluto con tenacia e con particolare qualità e capacità la realizzazione di quest'opera. Per loro è un'opportunità molto importante perché realizzano un locale al chiuso dove allenarsi, dove poter fare attività soprattutto con i più piccoli, con i bambini durante tutto l'anno, a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione meteorica. Va premiato, va veramente premiato quando lo sport riesce a mettere il sistema in volontariato trova le risorse per aumentare la propria offerta, per migliorare il proprio impianto per costruire qualcosa in più che impreziosisce la propria società sportiva.